Mi serve un biglietto. Devi andare dove? A casa. Vai in chiesa a sposarsi? Per me c'è già stata. L'hanno mollata sull'altare. 3, 2, 1... Vai con la bande. Ma sei una ballerina? Sono Cimo, il regista delle sere di rosa. Io non sono una ballerina. Nessun ballerino che abbia sangue nelle vene riuscirebbe a resistere a questo ritmo. Lei vorrebbe ballare in televisione, né più né meno. Potresti far sì che a una si blocchi un'anca o per essere sicuri che si rompa una gamba. Ma no, poverine, non è certo colpa loro. Zitta, che tu chiedi questo e ti danno questo. Da questa sera cambia la mia vita. Che vi ho detto, eh? Che vi ho detto? È lei. Ma che fa? Anni, forse noi due ci potremmo incontrare anche domani a Il Retiro. Il Retiro? Quanto è domani. Perfetto, vieni con un amico, io con un'amica. Luca. Ma che bella questa festa Ma che bella, ma che bella questa festa Questa festa, questa festa senza... Quali sono i ragazzoni del nord? Sono un pochino timidi. Il freddo ci paralizza. Allora ci penserò io a scaldarti come si deve. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Questa ragazza è fenomenale. È esattamente quello che la gente vuole vedere. Credo che tuo padre sia rimasto ancorato in un'altra epoca. Sì, in campagna e in città. Ole. Così parla una vera signora. Scoppia, scoppia, mi scopla. Scoppia, scoppia, mi scoppia al cuor. Vive, vive, vive dai. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scop... Scoppia, scoppia, mi scoppia al cuor. Mio Dio. Decente, indecente Decente, indecente Maria Decente, indecente Decente, indecente